Maria Furlan, Partito Democratico. Il giorno dopo dei ballottaggi per le amministrative si è obbligo a fare qualche valutazione. Non c'è dubbio che per il Partito Democratico è deludente il risultato. Nelle grandi città che sono andate al ballottaggio ci aspettavamo anche qualcosa di più. Partiamo però con Vicenza, parliamo con Brescia e quindi siamo incentivati ancora di più a lavorare, a stare in mezzo alle persone e a creare le condizioni perché nel Paese ci sia una vera alternativa alla destra.